Venerdì 3 novembre alle 15.30 sarà inaugurata la nuova struttura ospedaliera di Praia Mare. La conferma ci arriva dal sindaco Antonio Praticò. Al taglio del nastro ci saranno il presidente della regione Calabria Mario Oliverio, il commissario esecutore della sentenza del Consiglio di Stato Eugenio Sciabica, il sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia e tutti i parlamentari e i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione dell'alto tirreno Cosentino. Intanto, dopo le nuove insegne, anche il pronto soccorso è entrato in funzione. Da ieri ci hanno spiegato dall'ospedale il reparto per il trattamento dell'emergenza urgenza è entrato in funzione. Sono arrivati i quattro anestesisti e i sei nuovi medici, mentre altri due arriveranno in questi giorni. Hanno preso servizio anche altri due radiologi e degli infermieri. Tutto è in fase di allestimento e si inizia a piccoli passi. L'importante è essere certi che il cammino verso la riapertura sarà costante e non incontrerà altri ostacoli. Intanto da Catanzaro il commissario ad acta alla sanità calabrese Massimo Scura ha anche spiegato i motivi della sua lettera, con la quale si è solo attenuto a dare alcune motivazioni affinché non si creino delle strutture doppione sul tirreno Cosentino. Fatto sta che tanto la burocrazia quanto la politica si stanno muovendo verso il ripristino della struttura della città dell'isoladino. Il 3 novembre quindi si inaugura la struttura, ma ha anche un nuovo cammino verso il completamento della riconversione. L'ultimo step, insomma, quello più importante.